Scopriamo l'evoluzione del ritratto nell'epoca ellenistica, un periodo storico che segna una profonda trasformazione nell'arte e nella cultura del mondo antico. L'elenismo che si estende dalle conquiste di Alessandro Magno fino all'annessione dell'Egitto tolemaico nel 31 a.C. è stata un'epoca di grandi cambiamenti sociali, culturali e politici che hanno influenzato profondamente la rappresentazione artistica. Il IV secolo a.C. fu testimone di un significativo cambiamento in Grecia con il declino del sistema delle polis e l'ascesa di Filippo II di Macedonia e di suo figlio Alessandro III, conosciuto come Alessandro Magno. Questi condottieri non solo hanno ridefinito il panorama politico dell'epoca ma hanno anche aperto la strada a nuove forme di espressione artistica, in particolare nel campo del ritratto. L'Esippo, uno scultore di spicco di questo periodo, è noto per aver superato le ultime esitazioni verso il ritratto fisiognomico, introducendo una rappresentazione più realistica e spirituale degli individui. Il suo ritratto di Alessandro Magno, che lo rappresenta con un'inclinazione del capo che simboleggia un certo distacco divino, ha impostato lo standard per i ritratti dei sovrani ispirati, influenzando l'arte ritrattistica ben oltre l'era ellenistica. Durante l'era ellenistica il ritratto fisiognomico non era più limitato ai sovrani o agli eroi. Con il mutare delle condizioni sociali, anche i cittadini privati iniziarono ad essere soggetti di ritratti, riflettendo una democratizzazione dell'arte precedentemente riservata alla comunità. Questo periodo vide anche la diffusione del ritratto onorario e funerario, sottolineando la crescente importanza dell'individuo nella società ellenistica. L'arte del ritratto ellenistico rappresenta un momento cruciale nella storia dell'arte, segnando un passaggio dall'idealizzazione classica all'espressione individuale e realistica. La ricchezza di dettagli fisiognomici e psicologici che caratterizzano queste opere offre uno sguardo intimo e personale sugli individui di quel tempo, consentendo una connessione più profonda e umana con il passato. Esplorare l'arte del ritratto ellenistico offre quindi non solo la possibilità di ammirare i capolavori della scultura e della pittura, ma anche di comprendere meglio come le trasformazioni storiche e culturali influenzano l'espressione artistica. Video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Artesplorando!